A Nocere Inferiore, gli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato di staccato di pubblica sicurezza hanno condotto un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di un pusher residente a Nocere Inferiore. L'uomo 46enne pregiudicato e con precedenti specifici per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope è stato bloccato dagli agenti di polizia nei pressi della stazione ferroviaria di Nocere Inferiore, dove era stata segnalata la presenza di persone dedite allo spaccio e al consumo di droga. Le perquisizioni condotte sia sulla persona che nell'abitazione con ausilio di unità cinofile antidroga della Polizia di Stato hanno permesso di rinvenire 50 grammi di hashish già suddiviso in stecchette pronte per lo spaccio, un sacchetto contenente 2 grammi di cocaina purissima, un involucro contenente 3 pietre di crack, un bilancino di precisione, sostanza da taglio e 8 banconote false da 20 euro. Lo stupefacente del materiale è stato sottoposto al sequestro e l'uomo è stato tratto in arresto per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.